Ciao ragazzi, oggi siamo qua con Simone e la missione è andare sulla neve Vedremo cosa riusciamo a fare, anche se siamo già strati, tra poco sciopemo Però vediamo, il tempo sembra buono anche se in su, vedremo dai, anche se è una nevicata non è mica male Ciao Ciao ragazzi, è da una mezz'ora che stiamo pedalando, siamo a... dove siamo? Siamo dopo Cellare, ci sono 12 gradi e si sta bene, ciao Comunque, in su, sembrerebbe che ci sia nuvoloso, quindi una bella nevicatina sarebbe anche bella Vedremo, ci vediamo più tardi Attenzione ragazzi, la situazione si fa interessante Qualcosa mi dice che prenderemo un po' di acqua e di neve Signori e signore, ladies and gentlemen, ecco il boss Ciao a tutti Ci vediamo Can you see it, the worst is over, the monsters in my head are scared of love Falling people, listen up, it's never too late to change your love So don't let them steal your life Don't let them break your stride There's light on the other side You'll see all the raindrops falling behind It's a revolution, and we'll make it out tonight It's a revolution, it's a revolution It's a revolution, it's a revolution It's a revolution It's a revolution We are arrived To Jatta, we have passed Now we have to decide which place we can go Probably, we're going to Reboleto Andiamo al revolto che è il più vicino A maniare Qualcosa di buono E di caldo Ci vediamo dopo Guardate che cascata Molto molto bella Allora Siamo quasi arrivati al boschetto E C'è un grado La nebbia E Neve non ancora purtroppo Però non dovrebbe mancare molto Neve C'è un po' di nebbia Questo è il magnifico panorama Come vedete si può vedere Tutta l'Alessinia Con il rifugio Montetomba E' proprio lì E tutti i rifugi che ci sono Che roba bella Che roba bella Arrivati al rifugio C'è un po' di neve Camioncino di gelati, ne prendiamo uno eccoci ragazzi è abbastanza buio questo è il lampione siamo arrivati a casa io devo ancora arrivarci e siamo ancora tutti interi l'obiettivo l'abbiamo preso la neve l'abbiamo trovata a posto mangiate io mangiate